Notizia arrivata pochissimo fa, vado a leggervela tramite il sito ansa.it culture, morto Thomas Milliam, addio a Ermonnezza e l'ispettore Girardi. Viveva da molti anni negli USA ma era noto soprattutto in Italia dove nonostante avesse lavorato con autori come Lattuada, Visconti o Maselli era famoso per la sua partecipazione western nei film polizieschi dove impersonava l'ispettore Nico Girardi e il poco onesto quanto romanissimo Sergio Marazzi, detto Ermonnezza. Thomas Milliam è stato trovato ieri nella sua abitazione di Miami alle 23 ora locale, la morte avvenuta per Ictus. Lo racconta a Lanza la sua amica Monica Gattaneo. La settimana scorsa giunge l'ultima volta che ci siamo sentiti e mi chiedeva di riportarlo a Roma perché aveva deciso che voleva vivere a Roma gli ultimi anni della sua vita e morire nella città che aveva visitato l'ultima volta quando era stato premiato alla festa del cinema di Roma.